ben ritrovati ragazzi in un nuovo episodio di persona 5 royal questo è il cinquantottesimo siamo alla fine delle vacanze estive avevamo fatto la giornata di spiaggia con futaba e concluso il suo il suo arco narrativo noi avevamo ricevuto due inviti inviti se non ricordo male esatto giornalista i fumi e noi andremo avanti con i fumi per quanto con lei saremo saliti a 5 probabilmente infatti il fumo invece ha due i fumi ma se andiamo frutto c'era ancora uno strano andiamo a vedere cos'è non parte in automatico no non ce l'è ah no abbiamo ricevuto la ok per effetto per effetto presto andrò a los angeles in gita scolastica a loro sono quelli che è vero adesso tra poco vedrete lei fa parte quindi della scuola di youtube di eren che vanno a los angeles mentre noi andremo alle uali mi piacerebbe insegnarti lo shoji in un luogo diverso una volta ogni tanto per cambiare atmosfera magari un posto all'aperto e non troppo affollato anche se forse non ci sono molti posti simili beh allora facciamo una partita peccato peccato vai si sembrerà strano ma vorrei che mi ci portassi potrei avere l'ispirazione per una nuova mossa si sento che qui posso giocare a shoji con un ritmo diverso il paesaggio i suoni gli odori però utilizzare tutti e ci potrò utilizzare tutti cinque i sensi forse mi verrà anche qualche idea innovativa mi fa piacere sentirlo una modifica nella sensibilità altera la scelta delle mosse potrebbe far migliorare anche te grazie allo shoji ho scoperto nuove opportunità sei come un pezzo dello shoji dotato di mosse infinite chissà che tipo di persona diventerai già immaginare le possibilità è divertente ho la sensazione di essere sul punto di scoprire una nuova mossa bene ora che siamo rinvigoriti giochiamo una bella partita leale vediamo un po' abbiamo ancora due giorni di vacanza un po' abbiamo ancora due giorni di vacanza questo giornata buttata e qua cominciano gli incubi di morgana guardate questo è il nostro figlio? non è nulla non è nulla il nostro figlio è stato un uomo è stato un uomo è stato un uomo in un'altra parte di Mementos, se non lo so, non lo so è finito, mi sono riuscita no, la giornata, la giornata, la giornata, la giornata, la giornata, sai? paraculo sei tutto bruciato perché è nero è un altro non stai un altro un altro è un altro non se non 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 Beh, abbiamo già 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 stato un po' di vivere. Beh, è già un po' di vivere e rinforzare. Cosa sia una vita di più grande, una nuova vita di più grande. Ma se... ...e se fosse un po' di più... Vedi tu Tanti luogo Perfetto Grazie Eh certo ragazzi noi dovremmo scoprire la storia di Tromorgana E anche quella ti fa esplodere la testa Cosa 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 No, grazie, non mi interessa la tradizione di Bortmint. No, grazie, non mi interessa. Non mi interessa la tradizione di Bortmint. No, grazie, non mi interessa la tradizione di Bortmint. Non mi interessa la tradizione di Bortmint. Non mi interessa la tradizione di Bortmint. questa è una parte nuova perché persona 5 base non c'era la parte nuova la parte nuova la parte nuova E' un'ottima cosa, ma è un'ottima cosa che si è riuscita a fare in un'ottima settimana. E' un'ottima cosa che si è riuscita a fare in un'ottima settimana. Allora... Più famosi diventiamo, più i memento si aprono, giusto? Non riesco a togliermelo dalla testa. Ecco perché non sei riuscito a concentrarti sui compiti prima di oggi, giusto? Sì, esatto. A me sembra solo una scusa. Comunque, me lo stavo chiedendo anch'io. Chissà perché funziona in quel modo. Ordana ne sa nulla. Capisco, allora non c'è modo di scoprirlo. Se continuiamo come ladri fantasma, magari lo scopriremo. La cosa più importante è scoprire l'identità di quel criminale che usa il metaverso. Potrebbe essere la persona che ha ucciso mia madre. Lo troverò, costi quel che costi. Sapete, in certe cose non eravamo esattamente performanti. Ma ora, con Futaba che ci aiuta, abbiamo un sacco di nuove possibilità. Sì, è un'ottima aggiunta al team, guadagnata in un modo veramente inaspettato. Oh, mi fate arrossire. Contiamo su di te, Futaba. Molto meglio che venire guidati da un gatto scemo. Povero Morgana. Va bene. Ovviamente pochi soldi abbiamo, ragazzi. Vediamo, va che abbiamo... Eh, sono tutti da tre adesso. Questo qui che abbiamo comprato. Non avevamo quello del... Infatti, ecco qua. Il mago del biliardo ce lo possiamo leggere in treno. Conoscenza, gentilezza, noi abbiamo bisogno di aumentare la gentilezza. Via. Un vero boss se sa ispirare rispetto. Mi piace come suona la parola boss. Vorrei che qualcuno mi chiami a seguire un giorno. Ho ancora tempo di leggere, proseguiamo per un altro po'. Un boss dovrebbe mantenere la calma in ogni situazione. Questo libro lo stai divorando. Quel manuale sulla lettura rapida è servito davvero. Beh, fin dove sei arrivato? Vabbè, questa è la solita frase che legge sempre. Che legge? Che ci dice sempre? Che legge? Ehi, dobbiamo parlare. Vieni giù. Vieni giù. Di che si tratta? Ehi, preparati. Non siamo fuori oggi, soltanto noi tre. Non vuoi che venga anche io? Non hai altri impegni, vero? Dai, vieni. Voglio festeggiare. Non solo Futaba ora esci di casa, ma la tua pausa estiva è quasi finita. Dobbiamo fare qualcosa. Ho chiesto sushi apposto. Vedi di ringraziarmi. E dicono che questo posto sia stradelizioso. Sushi. 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 E' la mia città. Sushi. Non c'è nulla. Sushi. 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 Non c'è nulla. Sushi. Sushi è nulla. Ffff Che cagadini Ebbè eh dai so giro che ti piaceva la madrid's club si dai dai aiccio benzo o ganjo oi oi si ...e che è davvero buono... ...e che è davvero buono... ...è questo tipo di tre... ...dora faremo? ...e che vorrei provare a la mia madre... ...e che vorrei fare la mia madre... ...e che voglio chiarire... ...e che... ...che... ...12万? ...e che... ...e che... 120 mila yen quel sushi era delizioso, abbiamo mangiato anche la parte del gatto se se lo so oggi rovesse un po' più di denaro in realtà c'è un posto in cui ho voglia di andare ancora più del sushi, vuoi dovinare? ramen oh, far seguire al sushi un po' di ramen, ottima scelta ma quello possiamo fare un'altra volta, voglio andare a Rakiabara voglio comprare un gioco, ma ho troppa paura per andarci da sola, pensi di potermi aiutare? naturalmente sei un bravo ragazzo, ok, adesso è tardi, perciò incontriamoci direttamente lì dopo la gita alla spiaggia sono in grado di prendere il treno, quindi posso arrivare senza problema bene, resterò in attesa ah, adesso anche detta Akiba, è la mecca degli otaku e degli amanti di elettronica mamma quanti soldi ci ho lasciato giù lì il più vasto negozio di elettronica al mondo si trova qui quanti soldi qualcuno che piace guardare le stelle, inviterò qui, c'era scritto cominciamo io ho capito ecco perchè questa è lì la mia non c'è lì non c'è lì c'è lì un po' è che è lì tu non c'è lì cosa è è è Sì, non è vero, non è vero, non è vero. Grazie 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 a tutti. 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 Vedi? Adesso cosa dici? Uno slancio di questo tipo fa quasi paura. È incoraggiante. Vero? Roba che questa... Come questa è tipo la motivazione perfetta. Tutti si aspettano grande cose dai ladri fantasma. Assicuriamoci di non deluderli. Oltretutto questo caso ha portato a luce un aspetto importante. Parli di quel criminale? Beh a questo punto credo che sia sodato che la causa degli arresti mentali sia quella. E' lui che ha ucciso la mia madre. Non possiamo non fare nulla. Parliamo più a fondo domani a scuola. Parliamo. Vai facci trovare un posto... Mentre Sushi e Futaba ci ha trascinati in giro. Che giornata terribile. Ci sappiamo la sera libera. Gli altri fantasma sono diventati veramente famosi. Un sacco di gente sta entrando nel forum. Ho pensato a come sfruttare questo improvviso aumento di popolarità. Voglio implementare una nuova funzione in questo web. Curioso? Girerà direttamente a voi quello che vuole la gente. Spero che possa interessare. Domani sarà disponibile. Proprio adesso dovevo lasciare il Giappone. Che succede? Lo sai? E' quasi ora della gita scolastica. Comunque preparati per la nuova funzione. Sono sicuro che sarà fantastica. Sì, abbiamo una serata per fortuna, ma non possiamo uscire. Quindi ci finiamo il libro, visto? Quella botta di buro. Ci finiamo questo. Magari portiamo la gentilezza a quattro, dai. Un vero boss lavora per soddisfare le aspettative degli altri. Più che soddisfare se stesso. Mamma, che buco cazzo. Beh, che buco cazzo. VELVET RUM Ed Il 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 è molto più importante ma adesso credo che ci vuol dire le storie di questo e la storia di te è che la storia di te e la storia di te vediamo 3 2 3 3 1 1 2 2 Oh my god. Ciao Igor. Buongiorno. Oh, un uniforme. Olenco. Un uniforme. Un uniforme. Un uniforme. Una cosa. Un uniforme es. Un uniforme es el cuerpo. Grazie a tutti. per il mio figlio tu sei davvero bene a presto ci vediamo a presto a presto che vero peccato ...e il mio più alto è solo una domanda di risposta in l'università. Hai visto che la domanda di risposta in l'università? Ma la mia ragazza è sempre una domanda di risposta. Questa è una domanda di risposta di risposta. Oggi non è un po' di risposta? L'ultimo che sono raiati. Questa è la prima volta che voglio fare a chi ha fatto? ... ... ... ... ... ... non che durante le vacanze estive abbia fatto qualcosa mi sono richiuso in casa a giocare online ma qualsiasi cosa avessi fatto non avrebbe mai potuto competere con l'impresa dei Ladri Fantasma hanno hackerato i Megid e de-hackerato tutte le sue vittime pazzesco, de-hackerato online tutti aspettavano solo la scadenza dell'Ultimatum la gente li ama davvero, i Ladri Fantasma a proposito, hai un'occhiata al fansite di recente c'è qualche novità tra cui la classifica delle persone a cui svegliare il cuore e visto che è tornata Silvia, dopo faremo il Cruciverbo insieme visto che è nell'ultimo episodio, due o due episodi fa e a dicembre finisce il gioco quindi non manca molto non 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 ma non C'è qualcosa di più grande? Ok, ok. L'argomento... Eh... L'argomento è presto, ma... Ah, sì? Eh... L'argomento è bello, non? L'argomento è molto più tardi. Non so, non so. Ok, tranqui! Sì, sì... ...dia che... ...taka ma chi? ...è un po' di parlare in grado di inglese? ...e... 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 ...dia che... ...è... ...dia cosa che non sa? ...e... ... e la mia classe la gente non parla d'altro che dei ladri fantasmi anche per voi è così quando si dice la popolarità comunque adesso che il nuovo quadrimestre cominciate ora di una nuova riunione operativa se dobbiamo andare all'hawaii che cazzo di riunione vuoi fare grey e baracoon è pregato di legarsi dal consulente studentesco siamo noi dai che ci possiamo dichiarare finalmente ho detto loro che non mi storceranno altro denaro sto anche per lasciare il lavoro partai ma anche sto ancora trattando con il capo cercherò solo di essere un'ottima insegnante a prescindere dal giudizio altrui grazie per avermi dato un ottimo consiglio pensavo che dovesse essere il primo a saperlo quanto pensava di farci aspettare ancora lui siamo educati chi è maleducato tale insegnante tale studente è chiaro che non hai la minima educazione madonna mia che arriva di poterci chiamare come se nulla fosse smettere di pagare chi si crede di essere è una mia decisione per il benedica da casa con mi assicurerò che non ci siano altri studenti come lui che quindi vuole lavarsi nelle mani scommetto che non ha mai non l'è mai interessato di tarichi come fa a insegnare ancora forse dovremmo davvero fare causa il ministero dell'istruzione non le importa un insegnante responsabile della morte di uno studente scatenerebbe uno scandalo ho smesso di fuggire di nascondermi o nascondermi userò il mio tempo per prendermi cura degli studenti se volete ricorrere alle vie legali fate pure continuano comunque insegnare è il modo migliore per chiedere scusa attacca che mi ricordo più di sicuro quella di darvi del denaro non è una soluzione tacca zero oltre a farle causa forse dovrei liberarle a tutto il suo piccolo segreto se parlo di quel suo lavoro nel mercato del sesso come fa ho quindi ho ragione cosa andiamo il dinero che ci sta versando è troppo per lo stipendio di un insegnante allora vogliamo andare in sala docenti basta per favore a un insegnante che lavora nell'industria del sesso questa volta non ha speranza peccato che abbia pensato di poter lasciare risolta la faccenda di taiki ora sa cosa deve fare paghi e non sia giardia a chiamarci pensando di poter smettere pare che non possa ancora lasciare lavoro part time lo so ma cosa dovrei fare forse la del fantasma aiuterebbero mai una persona come me no è impossibile non posso continuare così chi? itakase il marito si chiama toshio san e la moglie iromi san come potrei dimenticarli? gli mando del denaro ogni settimana aspetta perché? non vorrai mica fare qualcosa vero? non farlo un insegnante della shijin che chiede l'aiuto agli altri fantasma sarebbe mi dispiace ero così ansiosa di dirti cosa avevo deciso e alla fine è successo questo dimentica tutto ok? pensandoci bene sono al punto di partenza non sarò mai in grado devo ricambiare stanno iniziando le lezioni devo andare vabbè che ve lo dico fa? si andrà subito nel momento intanto in mezz'ora dovremmo farcela forse eccovi qua futaba sei venuta qui da sola sono andata a prenderla io io ho uscito dalla scuola in anticipo quanto sei vecchio inari beh parliamo allora che facciamo? cerchiamo un altro pezzo grosso? anche quello è importante ma cosa facciamo ricorda il criminale del mondo della condizione è quasi certo che questa persona esista e sta causando arresti mentali non possiamo far finta di niente vero ma non abbiamo altre piste però ora siamo maledettamente famosi no? tutti a scuola parlano di noi anche la tv ogni giorno andiamo alla grande no? vero anche le classifiche sul face salt stanno impazzendo parli di queste? ooo che cosa è questo? adesso si andrà votata quindi vedi 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 . vedi hay racio a immagamba vedi vedi Se州v alla prossima Se si può fare una volta di profissione se si sta withmando whether lo raccordino Ecco la mia... La mia famiglia E' un po' che da un po' che è... Il momento è quello E' vero Una della sua perta Resserti pareccherebbe Sto andando a farlo Non ci fare più di novitare Per favore un po' la cosa ... ... ... ... Grazie a tutti. queste classifiche sono assurde sì, ti basta distratti un momento l'intero ordine cambia, è difficile decidere di concentrarsi, non si ferma possiamo scegliere chi vogliamo per ora dovremmo aspettare, prima o poi si calmeranno soprattutto, ma Cotto come va da te? mia sorella non è ancora tornata stanotte potrebbe non tornare proprio pensate che figata sarebbe poter scegliere meglio i bersagli, beh è vero però non le state prendendo troppo alla leggera in prima linea ci sono io in fondo anche tu perdi? va bene, lo farsi io voglio andare nel momento guarda questo è un negozio che ho usato nel silenzio è inizio con la leggera c'è lo scello che ha dato è stato una leggera ci leggiamo quello del biglietto intanto abbiamo due missioni nel momento da fare abbiamo ancora 20 minuti 25 soltiro masse perfetto che questa è fatta ti sei abbronzato sembri diverso ah già l'altro giorno grazie per il caffè è un locale adorabile non mi rilassava così da tanto tempo torna quando vuoi è gentile da parte tua sono parole rare di questi tempi non faccio che ricevere messaggi d'odio dai fan dell'andre fantasma a ogni modo fare che la tua scuola sia in guai seria stando ai media l'intera scuola avrebbe coperto con insegnanti di ginnastica quei poveri studenti hanno dovuto subire degli abusi a causa dell'egoismo degli adulti non importa quale sia il motivo resta un fatto imperdonato fammi sapere se ti sapete qualcosa ho letto un articolo sulla scuola indiricente scuola degli orrori il presidente sapeva tutto pare che il presidente abbia chiuso un occhio sugli abusi di quell'insegnante da non credere il presidente ha sempre sostenuto di non saperne nulla stiamo parlando delle vite di quei ragazzi sono gli uomini come lui a doversi vergognare che avviso? guardate un sacco della scuola un sacco di ragazza studi 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 scuola studi si state sarei sempre il solito ma il non 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 Sì, non lo so, non lo so. Sì, non è vero, ma... Sì? Sì... 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 ... ... ... ... ... ... I giornali stanno scavando a fondo, potreste essere preoccupati, ma giremo come sempre. Ho sentito che la scuola era d'accordo e ha cercato di nasconderlo. Anche gli insegnanti erano coinvolti nello scandalo? Io non ne sapevo niente. Credete davvero che abbia tutto questo potere? Ok, basta chiacchiere. Se siete così preoccupati, potete andare dal nostro consulente scolastico. A cominciare da oggi, è disponibile il dottor Maruki e visto che è qui, approfittatevi. Ah, giusto, dobbiamo andare da lui. Dai, nel momento andremo nel prossimo episodio. Accidenti, il nostro quattro trimestre è appena iniziata la situazione, è già fuori controllo. Questo cittadine. Avete visto? Il catch è comparso negli indici. Deve essere per via dei commenti negativi fatti su di noi. Pare di sì. Che figata pazzesca. Qua è sempre Grey che ha il suo aplombo inglese. Tra l'altro, Makoto, come sta andando? Sei riuscita a frugare tra i dati di tua sorella? Sempre delicatissimo, credo sia occupata. Ieri non è neanche tornata a casa. È un problema. Che facciamo? Senza quelli non possiamo far nulla. Non mettetemi fretta, ti assicuro che ce la posso fare. Piuttosto. Tutti a scuola sono sulle spine da quando è uscito quell'articolo. Cercate di non dare nell'occhio, ok? Ok. Cercate di non dare nell'occhio, ok? Ma rucchi subito. Ehi là, non ti ricordi il nostro accordo di come avrei dovuto aiutarti a tenerti in forma? Non pensi di potermi rimandare il tutto alla prossima settimana? Andrò nel ritiro per allenarmi, quindi per un po' non sarò in Giappone. Io sarò in Hawaii. Ah, giusto, la gittà del secondo anno è la prossima settimana. Che coincidenza, sarebbero entrambi all'estero nello stesso periodo, giusto? Ok, allora gli allenamenti sono sospesi fino al nostro ritorno. Goliti il viaggio. La prova te lo dovrai raccontarvi tutto. Era proprio da te che volevo venire. Eh, An, mi spiace, ma devi rispettare. Lui è importante. Che programmi hai? Andare da Marokin. Ehi, Barakun. Hai impegni dopo scuola? Se sei libero, mi farebbe sempre piacere parlarti della mia ricerca. Go, go, go. Eh, ottimo lavoro oggi. È arrivato l'autunno. Dovrebbe fare un po' meno caldo, eh? Oggi sei libero? Se non ti dispiace, potrei rubarti per una chiacchierata. Ho anche gli snack. Sempre molto superatore sta cosa. Siamo a metà, ciccio. Tu a noi mette ne vai. Bene, aiutalo sì. Quando è che c'è? Il venerdì e lunedì? O il mercoledì? Non ricordo. Ciao. Che altro è successo sotto il naso del tuo preside? Al notiziario si parlava di nuovo della tua scuola. Sei una specie di calamità per le sciagure. Vedi di non portarmi sfortuna, intesi. Povero. Hai detto, no, filati. No, mia sorella non è ancora tornata a casa. Cavolo, è davvero così occupata? Probabilmente a causa nostra. Allora sei ancora decisa a fare questa cosa? Sì, posso farcela. Aspettate. Ho un messaggio. Sembra che stia arrivando a casa. Finalmente alla buon'ora. Il cuore mi batte forte. Sii prudente, ok? Fa' attenzione. Capito. Vi riferirò tutto domani. Oh, chissà cosa cosa scoprirò. Ma cosa vuoi dicendo? Allora. Se non mi interessa. E questo è il lavoro. Il cazzo buffo. Io direi di fare, visto che ci si rivea il cruciverba. E poi salviamo e ci vediamo nel prossimo episodio. Ah, è ancora lo stesso. Un ineguagliabile artista. Un ineguagliabile... Scusa. Pittore olandese. Pittore olandese. 3, 6, 9. Non c'è una lettera, vero? Schizzo preparatorio. Bozza. La terza lettera del pittore olandese è la B. Tu che sei l'artista. La terza è la B. La terza è la B. che è di 3, 6, 7. Un pittore olandese. Dimmi un pittore olandese. No. Non lo faremo mai più questo, ragazzi. Non lo vedrete. Non lo so se ci viene, non so. Allora, chi può essere? Mort... Mortadella? Bella, mortadella, no? Che tanto mi fa anche schifo. Con la B. Non lo so. Ma è la quarta, non la terza. È la quarta, sì. Rembrandt. Non so se sia la B, però dovrebbe starci. Come si scrive? Rembrandt. Ah, c'è la D, eccolo. È rolandese. Va bene. Ineguagliabili artista, sono 7 lettere e c'è la C, c'è la R, 8, T, W, SM, sono 7, 1, 2, 3, 2, 5, 6, 7. Sì, le lettere sono quelli. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Solo una lettera non va utilizzata. Qua. Ineguagliabile artista con la W, giapponese? No. Boh, non lo so. Sono 7 lettere, una ce l'hai. Sono rimaste roe, w, t, sm. Una di queste non va usata perché... No, vado. Vero? Cioè, quanti ce ne sono di artisti ineguagliabili? Poi vuole il nome di un artista o un sinonimo, un po' super fenomeno? Non lo so, con le lettere penso che ci devi arrivare. R, O, E, W, T, S, M, la seconda è la A. Non lo so, con le lettere penso che ci devi arrivare. Qua. Bho. Bho, non ne ho la sua idea. W, A, T, S, M, la seconda è la sua. Wow. E a caso lo metto adesso. What, what, to Oare No Oate No, magari roviendo le water water forse non è la risposta giusta ma guarda si un ineguagliabile artista pari idea di cosa possa essere non ne ho pari idea sei tu l'artista è un ineguagliabile artista cioè con queste lettere lo devi comporre ci stiamo perdendo troppo tempo per i miei gusti niente non lo facciamo ragazzi non riusciamo a farlo questo allora abbiamo un invito da ma non era un invito era quello del lavoro salviamo ragazzi detto ciò prossimo episodio andremo nel momento ci abbiamo due missioni ne faremo due ci interessa quella di Kavokami perché prima della Wai vorrei andare per poter iniziare a concludere e fare la romance con lei così poi ce la leviamo dalle palle almeno questo social link e al solito grazie per aver seguito il video fatemi sapere cosa ne pensate cosa state facendo voi le solite cose praticamente e noi ci vediamo al prossimo video ciao ragazzi ciao 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 Grazie a tutti.